Sta per partire la stessa edizione del corso di formazione Capire il cane, a chi è dedicato è dedicato a proprietari di cani, a chi volesse far entrare nella propria vita un cane e a tutti coloro che volessero fare volontariato presso il canile rifugio 281. Per quale motivo partecipare? Perché quello che vi vogliamo offrire è una chiave di lettura totalmente etologica, totalmente chiara per riuscire a comprendere chi è il vostro cane, chi è il cane, come comunica, che cosa lo muove, quali sono i suoi desideri, quali sono le sue emozioni e soprattutto per riuscire a sviluppare un linguaggio molto chiaro, per riuscire a comunicare con lui in maniera efficace. Il corso serve anche per risolvere quei problemi di gestione che sono, che so, distruttività, che sono tirare il guinzaglio, che sono non sopportare gli altri cani, avere comunque degli atteggiamenti che non sono così sociali. Lo scopo di questo corso è quello di offrire degli strumenti validi perché voi possiate farcela da soli, perché nel momento in cui io capisco chi è il mio cane, che cosa mi vuol dire e so comunicare con lui nel modo corretto, vi assicuro che i problemi vanno a risolversi. La cosa carina secondo me è che potete anche regalare questo corso, magari ad un amico, quindi un'idea natalizia stupenda. Il corso inizierà a gennaio, seconda, terza e quarta domenica di gennaio e poi a febbraio la seconda domenica di febbraio. Dura quattro ore ogni lezione, quindi sono 4, 8, 12, 16 ore di formazione. Un video non riesco a raccontarvela tutta, quindi vi aspetto il di domenica, 17 dicembre, alle ore 15 presso il Centro Armonie di Mondovì. Quest'anno lo facciamo a Mondovì il corso. Vi aspettiamo così vi presentiamo sia l'Associazione Ghea, i progetti del canile rifugio 8.1 e il corso Capire il cane. Quindi siateci alle 15, venite a trovarci e insomma a noi fa sempre piacere vedervi.